Clamoroso ragazzi, clamoroso Germania a casa, ha segnato anche la Corea nei minuti di proprio finali, nel recupero perché Neuer praticamente doveva andare in attacco anche lui, clamoroso, clamoroso Germania a casa in un girone dove era nettamente più forte degli avversari, Svezia, Messico e Corea, mi ricorda appunto come siamo usciti noi nelle scorse edizioni, non hanno messo la giusta grinda, già contro il Messico hanno sbagliato diverse cose, contro la Svezia ho vinto un po' nel finale, giocando solo il secondo tempo in pratica, ma anche oggi ragazzi, clamoroso, non riuscire a battere la Corea addirittura poi subire anche il gol, veramente si è meritata a mio giudizio di uscire, ditemi voi qual è stata la chiave particolare di questa sconfitta, di questa eliminazione della Germania, ditemi un punto vostro parere, veramente io sono sorpreso, sì, però penso che sia cercata e meritata, incredibile la Svezia che dopo aver eliminato noi, paradossalmente elimina tra virgolette anche la Germania e passa un tricolore, ovvero il Messico, un tricolore come il nostro, clamoroso, il calcio è strano ragazzi, lasciate un bel like, condividete il video se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ciao!